Al via oggi pomeriggio i riti della Settimana Santa, tutte le celebrazioni, come già nella Domenica delle Palme, presiedute dal Papa dall'altare della Cattedra, nella Basilica di San Pietro, in uno stile di essenzialità, fa sapere il Vaticano. Rinviata a fine pandemia la Messa Crismale del giovedì mattina. Stamattina un tweet ricorda i sacerdoti, siamo stati unti per ungere e perdonare noi stessi. Custodiamo questo dono implorando la misericordia di Dio per il popolo a noi affidato e per il mondo intero. Allora si comincia alle 18 con la Messa in Cena Domini. Strettissimo il numero dei presenti fisicamente, milioni quelli invece collegati, diretta su TV 2000. Presente il crocifisso di San Marcello e l'icona Salus Populi Romani. Non ci sarà invece il rito della lavanda dei piedi, che Francesco ha sempre celebrato fuori dalla Basilica, in luoghi simbolici come le carceri e nemmeno la reposizione del Santissimo a fine Messa. Domani, venerdì santo alle 18, la celebrazione della Passione del Signore. Sarà il crocifisso di San Marcello a essere progressivamente svelato. Ci sarà l'adorazione della croce, ma il bacio potrà darlo esclusivamente il celebrante, cioè il Papa. Alle 21 la Via Crucis, non dal Colosseo ma dal Sagrato Basilica. Meditazioni dei detenuti del carcere due palazzi di Padova, che porteranno la croce insieme a un gruppo di medici e infermieri che curano malati di coronavirus. La veglia del sabato santo alle 21, ma non si celebreranno battesimi. Niente lumini per i pochi presenti. Al canto delle tre invocazioni Lumen Christi, si accenderanno invece in sequenza alle luci della Basilica. Domenica, infine alle 11, la Messa di Risurrezione, a seguire la Benedizione Urbi e Torbi, non dalla tradizionale loggia sul Sagrato, bensì sempre dall'interno della Basilica.